Pesci rossi, volpi scarlatte, gatti verde fosforescente, sono alcuni degli animali che animano le immagini di Senti Skoglund, mentre ignari esseri umani continuano tranquillamente a vivere le loro vite, in un contrasto così forte da sembrare naturale. Siamo davanti alle immagini di una pioniera della stage photography, che colpiscono per le particolari atmosfere a metrà dalla realtà e il sogno. I suoi set sono curati nei minimi particolari. Le sculture, realizzate direttamente da lei in ceramica o in resina, vengono attentamente posizionate per riempire lo spazio, in un caos calmo in cui la stessa scenografia diventa parte artistica di valore. Lo scatto finale gera il momento apparente, creando ambientazioni dai contorni fiabeschi. In mostra anche True Fiction Chew, un affresco dai colori contrastanti della vita familiare nella periferia americana.